Dalla Terra al Cielo. Gli occhi di chi a Gubbio ha assistito stasera all'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo hanno cercato idealmente un puntino luminoso lassù, tra le nubi e le stelle. Chissà mai per intercettare la stazione spaziale da dove l'astronauta Paolo Nespoli della ISA, l'Agenzia Spaziale Europea, inviava il saluto per l'accensione. Non lo hanno visto, il puntino, ma il video sì, quello in cui l'astronauta ha salutato la città, nella persona del suo sindaco Filippo Stirati, e in cui ha spiegato il senso di quello che la stazione sta facendo nello spazio, frutto di un lavoro di squadra, proprio come quello che ogni anno dà vita all'albero di Gubbio. Da lì in poi è partito un countdown in stile Cape Canaveral e ha scandito l'accensione delle luci, salutate da un razzo sparato dalla stella in cima al Montengino. L'applauso del pubblico presente in piazza 40 Martiri, come sempre in gran numero, malgrado il rigore invernale, ha sciolto la tensione dell'attesa, che era iniziata alle ore 18, con i saluti istituzionali del presidente del comitato alberaioli, Lucio Costantini, il sindaco Filippo Stirati e, alla sua prima accensione nella veste di vescovo, Monsignor Luciano Paolo Cibedini. Tante le rappresentanze delle istituzioni, così come delle associazioni, in una cerimonia che è stata aperta dal corto storico dei quartieri e dal saluto degli sbandieratori, che per l'occasione hanno anche presentato la nuova bandiera realizzata in omaggio a questa accensione spaziale, disegnata da Lucia Angeloni, che su uno sfondo nero ispirato al buio dello spazio, apre al bagliore delle stelle. 450 x 750 metri sono le misure base per altezza di questo colosso della generosità degli infaticabili volontari del comitato alberaioli, 130.000 metri quadrati che, solo per avere un'idea, corrispondono a circa 30 campi da calcio, oltre 1.000 le luci colorate e ben 7.550 i metri di cavi elettrici. Questo è l'albero di Natale di Gubbio, che quest'anno aggiunge anche il sonoro, con altoparlanti sistemati lungo gli stradoni del Montingino, da cui emanano verso la città, musiche natalizie a ciclo continuo. Uno spettacolo unico e suggestivo, che anche quest'anno ha richiamato migliaia di turisti, gli amanti dell'un plein air, che si sono dati appuntamento per il loro annuale raduno a bordo di camper, ma anche famiglie che hanno già da due mesi fatto registrare il sold out degli alberghi in città. Uno spettacolo che anche TRG, come ormai da anni, ha seguito in diretta, sulla sua piattaforma digitale, come anche in streaming sul sito www.trgmedia.it, in collaborazione con Arancia Live. Postazioni di ripresa in piazza 40 Martiri e ospiti in studio, insieme al direttore Giacomo Marinelli Andreoli. In particolare Luca Panichi, l'uomo dalle scalate impossibili a bordo della sua sedia a rotelle, che sabato 9 dicembre salirà agli stradoni di San Girolamo e due rappresentanti di Teleton, Paolo Gallina e Claudia Ricci, attivi anche a livello locale per l'associazione che da anni raccoglie fondi per la ricerca sulle malattie rare. Con loro il disegnatore Elia Grilli, autore del bozzetto scelto per la cartolina del Pellegrino 2018 e nipote di quell'ivo Grilli, tra i pionieri dell'albero luminoso, che poco prima della creazione della luminaria inventò un rudimentale gioco di luci, non a caso ribattezzato UFO. In collegamento da New York hanno salutato le ricercatrici della Columbia University, Sara Panata ed Elisa Prosperetti, collegate anche con l'Africa, dove hanno compiuto missioni e studi. E dopo l'accensione, il collegamento Skype con Parigi, con l'astronoma di origini eugubine, Antonella Barucci, che ha scoperto un asteroide ribattezzandolo Gubbio e appena sette giorni fa è stata insegnita della medaglia d'argento dalla NASA per i suoi studi sul nuovo asteroide Bennu. Il tutto con lo skyline luminoso dell'albero di Gubbio sullo sfondo, che quest'anno avrà anche una durata maggiore. Verrà spento infatti il prossimo 14 gennaio.